Sauro Giorni, dirigente del San Sepolcro Calcio, siamo qua a commentare una nuova sconfitta, siamo qua a commentare una nuova prestazione positiva, ma questi punti non arrivano. Ed è la cosa più preoccupante. Beh, è la cosa sicuramente più preoccupante, perché quando ha prestazioni positive non hai il riscontro terminale dei punti e quindi di una classifica che migliora, ovviamente la cosa crea sicuramente problematiche, crea problematiche innanzitutto ai ragazzi che immeritatamente vedono sottrarsi qualcosa che sul campo avrebbero sicuramente meritato, perché i nostri ragazzi al di là di tutto sono dei ragazzi che hanno un grossissimo attaccamento alla maglia, sono ragazzi che danno il 110% ogni domenica e sicuramente uscire dal campo dopo questo dispendio energetico e psicologico e non vedere premiati i loro sforzi sicuramente alla lunga potrebbe diventare anche, uno potrebbe anche risentirne e quindi andare a intaccare quella che è il grande, ripeto, impegno e attaccamento di questi ragazzi. Sauro, a Sansepolcro i tifosi sono un po' con il piatto sospeso per conoscere le condizioni fisiche di Ednan e Susy, sembra nulla di grave, credo che però nel match con la Colligiana il bomber non venga rischiato. Credo che al momento fare delle affermazioni in tal senso sia abbastanza prematuro, naturalmente per noi è un giocatore non importante, importantissimo, ci auguriamo anzitutto che possa scendere in campo domenica, che possa scendere in campo in maniera serena e tranquilla e nelle migliori condizioni possibili per lui, dopodiché se ciò non è possibile perché naturalmente va tutelato il recupero ottimale di Ednan e Susy, visto l'importanza che ha per noi, credo che sia giusto tutelare e fargli recuperare al meglio la condizione. Ultima battuta, è l'ultima gara, quella di domenica prima della riapertura della finestra del mercato di riparazione, a questo punto credo che Sansepolcro si muoverà probabilmente in ogni settore del campo. Sicuramente in questo momento la nostra classifica non soddisfa nessuno, non soddisfa gli addetti ai lavori, non soddisfa la dirigenza, non soddisfa i tifosi, quindi credo che questa società comunque non lascerà nulla al caso e nulla di intentato per risolvere questa problematica che si è venuta a creare in questo inizio campionato, in questo girone di andata, perché naturalmente l'obiettivo della salvezza è il primario e deve essere raggiunto ad ogni costo. Sono certo che la società farà naturalmente tutto quello che è nelle proprie possibilità per risollevare e migliorare questa situazione.